Ben ritrovati dalla redazione di news24.city. Bitonto boss scompare poche ore prima dell'arresto e caccia a Conte, l'uomo è accusato dell'omicidio per errore di una passante di 84 anni. Bari terrorismo condannato foreign fighter ceceno dell'ISIS fu arrestato a Foggia nel luglio 2017 e isticò la moglie al martirio. Manfredonia macabro ritrovamento a Siponto mare restituisce cadavere di una donna si tratterebbe di una sessantenne esclusa l'ipotesi di morte violenta. San Marzano sgominata banda dedita i furti in manette cinque giovani due sorpresi in abitazioni private e gli altri in un esercizio commerciale e un istituto scolastico. Brindisi imputato col auto da infarto prima dell'udienza in tribunale l'uomo di San Vito dei Normanni soccorso e salvato dal personale sanitario del 118. Puglia Max Gazze canta Pizzo Munno il 26 luglio concerto a Vieste. Il cantautore si esibirà con un'orchestra di 80 elementi e riceverà la cittadinanza onoraria.